E allora ancora un contrasto a rete, la palla nella metà campo di Modena, Grebenico Vimbari, Bagger la seconda linea vincente di Paul Bukheger 6 a 3, sta tornando piano piano Paul Bukheger, time out intanto per piazza La battuta di Stancovic, ricezione un po' staccata da rete, seconda linea di Patry, tocca al muro, Bukheger in difesa, Christensen per lo stesso Bukheger E' partito invece con il piede sull'acceleratore l'austriaco, parallela in campo, 8 a 5, si va da Bukheger in posto 2 E Bukheger questa sera è davvero una furia, 12 a 8 per Modena Stephen Maher, 13 a 10 per Modena, primo set, bordata su Rinaldi che tiene molto bene ricezione, palla dietro, Bukheger, mani fuori Mani fuori di un soffio, con Basic che aveva pregustato il muro vincente, ma Paul Bukheger è al quarto punto in attacco Piano che flotta sul nastro, quasi un ace, è costretto ad alzare Stankovic perché ha ricevuto Christensen, gran colpo di Bukheger Quinto attacco personale, con un bel colpo stretto, Paul Bukheger tiene Modena nel set Stando qui al palapanini, Bukheger in seconda linea, questo è un grande colpo di Paul Bukheger Una parallela verso posto 5, undicesimo punto In questa partita a Sbertoli la ricezione di Rinaldi Bukheger attacco vincente, ta seconda linea Dopo una bella alzata di Christensen che l'ha smarcato nonostante la ricezione a filo 21 a 23 Intanto la bella battuta, poi in difficoltà, Tori De Falco in attacco, il muro di Modena, la copertura Ancora Vibo, ancora con De Falco che prova una roba strana, una sorta di bilanciere Bukheger, 9 a 7 Break Modena con l'attacco di Bukheger La difesa di Tommy Rinaldi Il sorpasso di Vibo con l'attacco di De Falco, ma Paul Bukheger riesce a far uscire Modena dalla più uno In questo attacco da posto 4 che si infila dentro lo sterno di Almedia Cardoso, Vittor Alexander della Serna, Ivanovic, Petrov De Falco fortissimo, tiene Rinaldi, che ricezione E allora Bukheger in attacco, la palla a terra Da sottolineare una super ricezione di Tommy Rinaldi e l'attacco di Bukheger 21 a 18 Azione di livello assoluto Eh sì, azione di livello assoluto sì, è anche bellissimo questo diagonale di Bukheger Ha sì, io